E' bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video, io sono Andrivovo09 ragazzi Oggi siamo ritornati di nuovo insieme a BSC Karama su Rocket League Per la stessa challenge di ieri che abbiamo fatto però San Marino Italia, ha vinto l'Italia per 5 a 12 Questa volta però ci sarà la rivoluzione tra Albania e Isole Farò Io sono Isole Farò e lui è l'Albania ragazzi Iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video E per il resto ragazzi, buona visione Ah e come sempre faremo due partite in competitivo e una partita in 1v1 Però non faremo durare 5 minuti, facciamo attraverso, no il video dura troppo Vabbè, startiamo questa bellissima partita Eccoci qua ragazzi, tutto è pronto, ora ci sarà la sfida tra Isole Farò e Albania Ovviamente ancora in alto a sinistra il risultato come nel video di ieri E vabbè, via col video La tattica migliore è far esplodere la gente E io faccio gol, grazie No, 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 no No Cosa, te dovresti godirsi Inizio con un gioco No C'è un gioco Ma perché Vado tantissimissimo No Aiuto Vedo Una stella Ma io ci sono passato attraverso Mi portate ragazzi che non facciano neanche il loro gol Poi il resto possono fare tutto No Ci voglio credere Non volevo neanche colpire il pallone, però l'avevo colpito No E ragazzi l'Albania è in vantaggio Isola Farò 0 ed Albania 1 Mannaggia No È successa la stessa roba di prima È infatti la stessa roba della partita di prima Perché ragazzi prima abbiamo fatto una partita È successo questo Te Auli devi stare in porta Non devi partire Perché se te la blocchi almeno io faccio gol Il problema è se la blocchi Ma te non devi saltare prima di fare Cioè devi andare normale No Prendo io Dai Hai strafortuna Puoi farlo ai supplementari No Ma No Che c***o No Via Putta via Putta via Putta via Putta via Pia tu stai fai di gol Sia Godo Non riprodo No via No Non l'hai preso Godo No Penso non lo sto aspettando No 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 Lo faccio io Zio Ok Non è zio Che po' Ma io avrei fatto almeno 27 gol No L'avessi presa bene la palla Oh Godos Cosa è successo Vai Egliete Isplodi Lascialo No Dai prendetela Si Oh no poi ri le isole fare pareggio ricolti con l'albanio 6 e poi vincono anche la prima partita di questa serie ragazzi perché non ve l'ho detto ma questo qua saremmo no ma non abbiamo tolto un pallone no sì ci prego e le isole fare sono in vantaggio che la corte si aggiunge manca il martello dove il mio martello sacro no no isole fare due albania 2 bello facciamo questo partito poi basta perché il video dura troppo però assist tre pare allora perché l'assist dai misure farò due al mania 3 no no c'è dipende se qua andiamo i supplementari e se siamo in pareggio che paratuno epico e pareggio si dai però ho fatto due assist e isole fare due albania 4 oh che anche vuoi nooo dai vabbè allora facciamo due minuti di recupero nel 1v1 4 2 minuti hanno le isole farò io vado in blu per pareggiare l'albania invece deve difendersi e attaccare allo stesso tempo anche se sarà difficile perché io sono ancora più gasato di prima attenzione paratona nel portiere dell'albania schifezza di quello delle isole farò però e c'è già il 5 3 da quanto è brutto segnale di rimpallo 5 3 per l'albania ma nelle isole farò non sono ancora arrese beh ancora un po' eh no dai infame ma non l'ho fatto e giù l'albania e qua mi sa che ha fatto il gol e c'è il 4 a 5 dell'isole farò io quando sono a porta vuoto ho un'ansia incredibile eh anch'io perché non riesco mai a gestire il pallone oh non ci credo stavi avendo un cu no o fa la rovesciata di Ronaldo attenzione no mi stai prendendo tutti i busti rischio qua nella spezia ti concede tra niente si arriva i 3 dai è poco ancora di tempo eh è bello è bello eh ora si è inito no 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 non me la gioco un po' più sì perché io non me la devo rischiare sono in vantaggio 10 10 10 e c'è il pareggio dell'isole farò a 7 secondi nella fine 5 pari clamoroso pareggio tettura perché mancano con 5 secondi eh ma quasi chi fa questo gol vince dai abbiamo tempo illimitato poi no attenzione perché questa palla no no segna l'Albania e vince 6 a 5 l'Albania non ci voglio credere qua mi sono iniziato a preoccupare eh vabbè ragazzi la partita di oggi vince l'Albania contro l'isole farò per 5 a 6 un'ottima isole farò e un'ottima Albania Albania che gioca abbastanza bene l'isole farò anche e da me Aure è tutto e domani ci vediamo con un prossimo video e ciao